Ciao a tutti, in questo emozionante video, vi immergerete nelle avvincenti anticipazioni di, Terra Amara, per le puntate in onda dal 24 al 28 luglio. Vi aspettano colpi di scena e intrighi, quindi vi invito a rimanere incollati fino alla fine, perché ne varrà davvero la pena, nella puntata di lunedì 24 luglio, saremo catapultati nel cuore di un dramma coinvolgente. Ilmaz, convinto che Ankar lo abbia tradito rivelando tutto a Demir, si ritroverà furioso e la costringerà a salire sulla sua auto, portandola in un capanno abbandonato, dove l'atmosfera, sarà densa di tensione. Ilmaz prenderà la terribile decisione di appiccare fuoco alla struttura, ma il coraggio di Gulten entrerà in gioco, implorando Ilmaz di risparmiare Ankar. Nel frattempo, il pericolo per Ankar non sarà ancora completamente scongiurato. Una volta tornata a casa, si troverà faccia a faccia con un'altra minaccia, Zuleyha, in preda all'ira e armata di un pugnale. Zuleyha incolperà Ankar di aver rovinato le loro vite, mettendo a rischio sia la sua che quella di Ilmaz. Per fortuna, Sevda interverrà coraggiosamente e rivelerà a Zuleyha che Demir ha scoperto tutto grazie a Sermin e non a Ankar, dimostrando così l'innocenza di quest'ultima. Zuleyha si scuserà e Ankar le perdonerà, aprendo così la strada per una possibile riconciliazione. Tuttavia, Ilmaz non sarà immediatamente convinto delle parole di Zuleyha e continuerà a nutrire sospetti su Ankar. Passando all'episodio di martedì 25 luglio, Ilmaz e Zuleyha, dopo tutte le turbolente vicende, decideranno di progettare una fuga verso la Germania. Tuttavia, i sentimenti materni di Zuleyha la faranno ripensare al loro piano, poiché teme di separarsi dai suoi figli Adnan e Leila, comprendendo quanto questo possa causare sofferenza a Mugeigan, proprio come lei ha sperimentato in passato. Ilmaz, cercando di tranquillizzarla, le suggerirà un'alternativa, proporre il divorzio a Mugeigan, visto che è stata lei stessa a chiedere la separazione. Tuttavia, Mugeigan non sarà disposta a concedere il divorzio. Anche Zuleyha prenderà una decisione simile quando Demir la rimprovererà per la sua infedeltà. Lei confermerà di essere ancora innamorata di Ilmaz e chiederà a Demir il divorzio per mettere definitivamente fine alla loro storia. Demir reagirà con rabbia, rifiutandosi di concederle il divorzio e rivelando il coinvolgimento di Ilmaz in tutta la vicenda. Nella puntata del 26 luglio, si raggiungerà il culmine delle tensioni a Terramara. Demir organizzerà una sontuosa festa per la circoncisione di Adnan, cercando di affermare la sua autorità su Adnan, ma questo susciterà l'opposizione di Zuleyha. Ilmaz verrà a conoscenza di questa decisione grazie a Cetin e si recherà immediatamente alla villa per affrontare direttamente Demir. Con grande determinazione, Ilmaz esprimerà il suo disaccordo riguardo alla circoncisione di Adnan, sottolineando di essere il padre del bambino e di avere il diritto di partecipare alle decisioni riguardanti lui. La situazione raggiungerà un punto critico, e sembrerà che uno scontro armato tra Ilmaz e Demir sia inevitabile. Tuttavia, un colpo di scena cambierà drasticamente le dinamiche della situazione. Improvvisamente, si sentirà uno sparo provenire dalla stanza di Demir e Zuleyha, lasciando tutti sconvolti e col fiato sospeso. Nella puntata emozionante che andrà in onda il 27 luglio, l'atmosfera sarà tesa e carica di suspense. Mentre la famiglia si trova nella stanza, un rumore improvviso attira l'attenzione di tutti e scatta il panico. Con grande sgomento e paura, scoprono che Adnan si è ferito accidentalmente con la pistola che Demir aveva lasciato senza controllo. Zuleyha, la madre di Adnan, sarà sotto shock vedendo suo figlio in quelle condizioni, e sia Demir che Ilmaz si affretteranno a portarlo in clinica. La corsa in ospedale coinvolgerà tutti i membri della famiglia, inclusa Mujeygan, la dottoressa, che sarà chiamata ad entrare in sala operatoria per operare Adnan. All'arrivo in ospedale, Zuleyha, preoccupata per la sicurezza di suo figlio, cercherà disperatamente di impedire a Mujeygan di partecipare all'intervento, temendo che la donna possa fare del male al bambino. Nella trama di Terramara, si sviluppano nuovi avvenimenti che aggiungono tensione e dramma alla storia. Ilmaz, desideroso di delegare il caso di suo figlio Adnan ad altri medici, osserva attentamente la reazione preoccupata di Adnan durante l'operazione, capendo che la verità è ormai chiara. Fortunatamente, l'operazione ha esito positivo e Adnan inizia a riprendersi, ma l'atmosfera familiare rimane ancora tesa. Zuleyha è furiosa e preoccupata per l'ennesimo litigio tra Demir e Ilmaz, sentendosi in colpa per aver lasciato Adnan solo al momento dell'incidente. I rimproveri si susseguono tra i membri della famiglia, aumentando le tensioni e i sensi di colpa. Nel frattempo, lontano dalla tenuta, Aziz si trova coinvolta in un incontro sconcertante con alcune donne misteriose che sembrano conoscerla. In un momento di confusione, Aziz viene derubata da queste donne, suscitando preoccupazione in Fadik, che cerca di trovarla e recuperare i gioielli rubati. Durante una cena di famiglia, la situazione si infiamma ulteriormente quando la manipolativa zia di Mugeigan, Nazire, suggerisce a quest'ultima di fingersi all'oscuro del fatto che Adnan è il figlio di Ilmaz, al fine di non perdere i soldi che le spetterebbero. La dottoressa decide di seguire il piano durante la cena, ma Nazire smaschera la sua messincena avendo ascoltato il dialogo tra Mugeigan e Beis. Durante un confronto con Beis, Mugeigan è costretta ad ammettere di conoscere da tempo la verità su Adnan, ma di aver taciuto per preservare il loro matrimonio con Ilmaz. Questa rivelazione scatena l'ira di Ilmaz, che dichiara che il loro rapporto è giunto a un punto di non ritorno, gettando ulteriori tensioni nella famiglia. Con la trama di Terramara sempre più complicata, i telespettatori sono lasciati con il fiato sospeso, desiderosi di scoprire cosa accadrà nel prossimo appassionante episodio. Se siete stati coinvolti dalla storia e ansiosi di vedere gli sviluppi successivi, vi invitiamo a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e non perdere il prossimo entusiasmante video. A presto e ciao a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!